Salve a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Se state vedendo questo video, molto probabilmente è perché è arrivata l'ufficialità di questa operazione di mercato che avete già letto dal titolo. Voi probabilmente questo video lo state vedendo di domenica, in questo momento non so neanche se si giocherà il match tra Cagliari e Bologna, però in ogni caso buona domenica a tutti e forza Castellu. Ma quello di cui voglio parlare oggi è chiaramente della trattativa che ha portato Faragò dal Cagliari al Lecce in prestito con diritto di riscatto. Una trattativa che sa molto di trattativa di fine mercato, quelle trattative a poche ore dalla fine, quegli acquisti un po' quasi dal rattoppo. Diciamo che io personalmente però non sono molto soddisfatto di questa cessione. Partiamo dall'inizio. Faragò, anzi, la trattativa tra Faragò e Lecce è iniziata, se vogliamo, dalla sera, ha iniziato a trapellare qualcosa dalla sera del 6, il 6 che tra l'altro è stato il giorno nella quale il Cagliari ha battuto la Sampdoria per 2RT a 1 a Marassi, dove tra l'altro Faragò è anche subentrato nel finale, subentrato a De Iola per circa un quarto d'ora. Faragò per lui è stato un anno veramente complicato, ha dovuto combattere contro diversi infortuni, contro diversi problemi, poi adesso è tornato da pochissime settimane in gruppo e proprio nel match scorso è tornato in campo. Ma neanche il tempo di tornare in campo che arriva la cessione in prestito con diritto di riscatto a Lecce. Cosa posso dirvi? Personalmente non sono soddisfatto perché? Perché la cessione di Faragò non è inevitabile. Non era inevitabile e ce la si poteva aspettare anche. Ma una cessione, titolo definitivo, a questo punto l'avrei preferita. Magari ricavando anche qualcosa dal cartellino di un calciatore che ecco magari non ha più una valutazione come nelle stagioni precedenti. Faragò addirittura su Transfer Mart, il valore più alto è considerato 6 milioni di euro. Attualmente penso che il valore di Faragò si aggiri intorno al milione. Adesso non voglio dire delle cavolate però adesso voglio dare un'occhiata al valore di Faragò. Ecco, Transfer Mart me l'ho valuta a 1.800.000 quindi sicuramente non un valore altissimo però sicuramente una cifra che potrebbe aiutare un po' le casse del Cagliari al momento. Sono soldi che aiutano. Però una cessione in prestito non ci vedo molto senso. Poi parlando anche da un punto di vista del numero e sicuramente anche del calciatore è un calciatore che può ricoprire diversi ruoli. Può fare il centrocampista, può fare la mezzala, può fare l'esterno di centrocampo, può fare all'evenienza anche il terzino. L'abbiamo a volte anche adattato come difensore centrale all'evenienza quindi un calciatore che è stato un po' reinventato in diversi ruoli da quando è venuto qua a Cagliari. Anche trequartiste, insomma, sa fare un po' tutto alla fine Paolo Faragone. Qualcosa meglio, qualcosa peggio, diciamo così. Però è un calciatore quindi che tecnicamente in questo momento con tanti assenti perché Cagliari tra infortuni e anche Nandez positivo al Covid poi non si sa perché in questo momento le positività chiaramente adesso non c'è nessuno positivo, tra due secondi ce ne sono cinque. Quindi il Covid diciamo che sta un po' ammazzando questa Serie A in questo momento. Il Cagliari per il momento ha soltanto Nandez. Chiaramente ci auguriamo il meglio per la nostra squadra e anche il meglio per le altre squadre perché sinceramente speriamo che se devono mancare altri calciatori manchino per infortunio o per altri problemi non per il Covid che è un problema un po' più serio. Però in questo momento Cagliari quindi a centrocampo soprattutto non ha tantissimi ricambi. In questo momento ci troviamo soltanto con Marin, Grassi e De Iola. Con Nandez che appunto è positivo. Ladinetti che in questo momento è in fase di riattletizzazione quindi non può essere sicuramente arruolabile al 100%. Abbiamo chiaramente Strotman ancora fuori. C'è Rosi chiaramente che è un lungo che è ancora chiaramente fuori per i motivi del crociato. Insomma in questo momento non abbiamo grandi ricambi in mezzo al campo. Scusa se non mi sto guardando ma sto vedendo se mi sto scordando qualche centrocampista in questo momento. Vabbè c'è anche Oliva ma chiaramente Oliva a che punto? Anche lui è praticamente fuori dalla squadra visto che sostanzialmente pure lui non verrà riaggregato difficilmente verrà riaggregato e verrà probabilmente ceduto in prestito oppure anche lui a titolo definitivo. Sì non mi sto perdendo nessuno sono tutti questi. Quindi in questo momento gli unici calciatori disponibili al centrocampo sono Marin, De Iola e Grassi. Tre centrocampisti. E io Faragò personalmente l'avrei tenuto. Può essere un calciatore che non è un fenomeno non è un grande calciatore ma avrebbe potuto darci una mano e sicuramente dare fiato a magari Marin a De Iola o anche allo stesso Bellanova allo stesso Zappa che comunque Faragò è in grado di giocare anche in quel ruolo. Lo so ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate chiaramente di questa trattativa Faragò al Lecce io vi saluto forza grazie a tutti sempre e ciao ciao